La Salernitana torna in città dopo i primi giorni della settimana trascorsi nel ritiro di Polla. I Granata, già ieri, hanno svolto una seduta sul sintetico del Volpe e questa mattina si sono ritrovati, sempre nell'impianto di Via Allende, per continuare la preparazione in vista del derby, di sabato pomeriggio al Partenio Lombardi contro l'Avellino. Domani, invece, è previsto un allenamento a porte aperte per consentire ai tifosi di stare vicino alla squadra e caricarla in vista di questo match importantissimo per la classifica e per il morale dell'intero ambiente. Bollini, per l'occasione, dovrà rinunciare sia a Coda in attacco che a Bernardini in difesa, ma recupera Tuia che ha scontato il turno di stocco. Cattive notizie anche dall'infermeria, dove diversi calciatori non godono di un'ottima forma. Perico tiene in ansia il tecnico Granata, così come Donna Rumma, quindi rispetto alla formazione vista contro Frozinone e Carpi ci dovrebbero essere diverse novità. A partire dal tridente offensivo, che potrebbe vedere in campo dal primo minuto uno degli ex di turno, il portoghese Joao Silva. L'attaccante andrebbe ad agire al centro, con Capitan Rosina e recuperato in prota sugli esterni. Dubbi anche in mediana, con Busellato unico sicuro di un posto dal primo minuto. A giocarsi due maglie ci sono invece della Rocca, Ronaldo e l'altro ex dell'incontro, Antonio Zito. Il pacchetto arretrato vedrà l'inserimento di Tuia che, come detto, ha scontato il turno di squalifica e andrà a formare la copia centrale con Schiavi, mentre si aspetta di capire se si potrà contare sul recupero di Perico.